I danni dell'alluvione marcianese non hanno ancora un nome, un conto, un costo e un risarcimento. I cittadini esigono delle risposte. A tre mesi e mezzo dell'alluvione del 12 novembre, che ha messo in ginocchio sostanzialmente il quartiere Ponte e tutto quello che c'era intorno, sia per quello che riguarda i privati, sia per quello che riguarda le attività commerciali, abbiamo qui alcuni di coloro che hanno subito danni, dai quali cercheremo di capire come è la situazione ad oggi. Claudio Mattioni abita in via Acqua Calda, ribattezzata dopo l'alluvione in via Acqua Alta. Com'è la situazione? La situazione attuale è quella che si può vedere, è quella che deriva un po' dall'iniziativa privata, almeno per quello che riguarda me. Io non ho notizia dei fatti che riguardino aziende del posto, se non qualche esercizio che ho sentito così dire. Per quello che mi riguarda ogni famiglia che conosco nella via dove abito ha provveduto in via autonoma per rimettere in sesto tutto quello che è stato rovinato e tutto ciò che ha procurato questo enorme disagio per un periodo che comunque è stato per qualcuno molto prolungato. Io ho notizia di famiglie, proprio presso il tennis, che hanno ancora dei disagi derivanti da quel tipo di problematica e ancora hanno delle infiltrazioni rilevanti. Per tutto ciò che riguarda il recupero c'è stata una domanda che è stata fatta da tutti i privati, almeno di quelli di cui ho notizia, al Comune, per avere un indennizzo. Non ho avuto alcuna risposta fino ad oggi. Speriamo che ci sia almeno un interesse da parte del Comune per avere, se non altro, un'informativa che poi non è stata sempre puntuale, almeno per quello che mi riguarda. In via Ponticelli c'è il ristorante Rosatelli che in quel 12 novembre, in due ondate, ha visto andare in malora tutto quello che aveva. Ci è voluto del tempo. Giuliano Rosatelli, colui che guida questo ristorante, come è la situazione ad oggi e le prospettive? La situazione è che siamo ripartiti con le nostre forze e nelle condizioni in cui siamo riusciti da soli a rimetterci in piedi. Non c'è stato nessun aiuto da parte di nessuno e nessuno ha pensato a operare in nessun modo, perché sarebbe stato sufficiente anche qualche intervento, non di elargimento del denaro, ma magari fermare qualche disposizione. L'entrata in vigore, ad esempio, dal 24 ottobre dei pagamenti a 30 giorni per il settore agroalimentare sarebbe bastato per i comuni coinvolti posticiparlo di qualche mese, perché chiaramente ci siamo trovati a affrontare la crisi, l'alluvione, la riapertura, l'entrata in funzione delle nuove normative e tutto quanto, due o tre mesi di sofferenza totale. Non abbiamo ricevuto niente, l'unica cosa è la situazione di categoria, ma mi hanno dato la lettera dello stanziamento dei milioni che lo Stato ha fatto per tutte le regioni coinvolte. La situazione di categoria parla di 90 giorni affinché la regione deciderà l'utilizzo, ma tutt'oggi nessuna istituzione comunale, provinciale, regionale, ci ha contattato per comunicarci nulla. In Viale Ponte Nestore, tra i tanti che hanno avuto almeno il piano terra allagato, c'è Orfeo Moretti. Tra l'altro in quei giorni le telecamere di Marciano 7 hanno documentato il livello dell'acqua e quello che era successo. Danni tantissimi, a questo punto c'è qualche barlume di speranza che i danni possono essere in qualche modo ripagati? La speranza sarebbe che ci fosse il modo di poter riottenere qualche cosa, se non altro per ripartire sulle cose più semplici come possono essere gli addolcitori per le case, che non sono la mia ma anche gli altri, oppure le caldaie dei termosifoni che siamo stati costretti a far ripartire da soli perché non essendoci stato niente l'abbiamo rimesso avanti da soli. Vorrei far presente il fatto che non si è presentato nessuno e nessuno ci ha fatto sapere niente di quello dell'evolversi della situazione per quanto poteva essere un rimborso oppure rimborso, parliamo di rimborso, insomma, ma poterci dare qualche soldo per poter ripartire. Non si è visto nessuno, non sappiamo che cosa è successo, se ci saranno delle possibilità, se ci saranno o se non ci saranno per niente. Questo mi lascia un pochino a me e alle famiglie, dietro casa mia, insomma, un pochino male ci lascia perché noi siamo stati le famiglie più colpite perché abbiamo avuto un metro e quaranta di acqua in casa, quindi non è più una questione dell'impianto elettrico oppure lì, adesso si parla anche della gestione dei muri che si sono sicuramente allentati, la bonifica, ci sono tante cose sotto, ma siccome non sappiamo assolutamente niente, ecco, mi farebbe piacere avere delle lucidazioni da parte dell'amministrazione comunale, della provincia, della regione, da qualcuno. Queste sono alcune delle voci raccolte nell'area del Ponte Nestore di gente che ha subito gravissimi danni nel 12 maledetto novembre che chiede soprattutto, più che soldi, chiede che qualcuno si faccia vivo per almeno informare della situazione attuale. Per gli aggiornamenti e le informazioni su tutto quello che accade nel comune della media valle del Tevere, continuate a seguire Marciano 7, negli orari, i giorni e sui canali che leggete in sovraimpressione e in ogni momento su www.marciano7.it www.marciano7.it www.marciano7.it